sono nello studio nuovo che sto facendo i lavori da due giorni e due giorni che in verità da una settimana però sono due giorni che sono assente da ogni diretta sto lavorando per noi per creare una nuova postazione potrei farvi vedere la situazione attuale questa amici la situazione attuale questa tutto completamente smontato però abbiamo già la postazione nuova e guardate lo studio panoramica dello studio nuovo guardate tutto in lavorazione per noi per noi un nuovo studio con redazione con tutto vedete la fila di postazioni dei ragazzi quindi siamo pronti stiamo lavorando per voi attendo che siete collegati intanto sperando che la rete funzioni perché ho installato la nuova rete sperando che funzioni vediamo intanto se arriva qualche collegato nonostante oggi buon san lorenzo è buon san lorenzo tra parentesi san lorenzo è il patrono del mio paese d'origine che è ciano di zocca un paesino in montagna nel comune di zocca ciao daniele brini notifica arrivata vediamo se si arriveranno i collegati ciao carlo clemente scusate l'assenza due giorni che non mi faccio sentire vedere le notizie le osservo lo stesso le osservo chiaramente a tempo alterno perché sto ristrutturando tutti gli studi quindi una grande fatica bologna temporale dell'altra volta parecchi danni ha fatto dice michael bfc carlani ciao ciao fedora ciao franca vitale vedo i collegati cari amici e attendiamo qualche istante per parlare di quello che stanno facendo io ho scritto scherzano ma si scotteranno o meglio ci scotteremo e mi riferisco ai due contendenti di questa guerra che va avanti da oltre da oltre due anni ovvero quella di ucraina russia russia ucraina stanno scherzando perché col fuoco col fuoco perché stanno entrambi cercando di stuzzicarsi il più possibile e c'è chi parla ancora di olimpiadi e diciamo che l'attenzione oggi è più che mai rivolta ad altro e in verità dovremmo stare molto attenti a quello che stanno facendo bisognerebbe parlarne buona serata cosa ci dice oggi dice claudina amici si 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 bruceranno si bruceranno e ci bruceremo intanto mi chiedono calo cremente quando inizio observer noi stiamo programmando un nuovo format sempre su canale 68 ma ve ne parlerò a settembre perché sto trattando con due grossi sponsor per fare questa nuova trasmissione e sempre sul canale 68 ma vi terrò aggiornati torniamo all'argomento e zeleschi con le nostre armi con le armi inviate dalla comunità europea ha deciso di attaccare in russia è ufficiale quindi l'attacco avete visto tutti ne stanno parlando ma neanche più di tanto e ne stanno parlando ma visto non più di tanto e la cosa è grave amici la cosa grave perché al diritto di farlo è una guerra ognuno ha il diritto di fare quello che ritiene opportuno però amici stanno scherzando col fuoco perché perché putin ha già confermato che risponderà e oltre confine ma non solo ucraino quindi potrebbe anche estendersi la risposta l'ha detto l'ex presidente russo anche oltre ucraina quindi la cosa è molto preoccupante quello che mi chiedo io amici quello che mi chiedo io come fa la comunità internazionale a stare zitta di fronte a questa escalation e questa situazione attuale che è gravissima vorrei ricordarlo che dall'inizio della guerra non ci sono mai stati così tanti morti civili come in questo periodo e non andiamo ecco esatto domenico esposito ha fatto ha detto la cosa giusta non andiamo per niente bene e non andiamo bene perché in la nostra comunità internazionale soprattutto i nostri politici da destra a sinistra sono più intenti a discutere sul gender discutere se uno è uomo donna o che cosa e rispetto le veramente alle cose importanti oggi tutta l'attenzione dovrebbe essere esclusivamente rivolta alle varie guerre che ci che di fatto ci coinvolgono direttamente o indirettamente ma ci coinvolgono non solo russia ucraina ma anche la situazione che c'è in israele con il subentro con il subentro in modo attivo e parliamo di guerra attiva dell'iran e la situazione hai ragione claudina e lo so purtroppo lo so che ho ragione e fa capire che la situazione rischia solo di degenerare ulteriormente quello che mi chiedo io ma i nostri politici sono in grado di fare i politici di fare i diplomatici qua serve diplomazia serve esclusivamente diplomazia qua però fanno tutto tranne che fare diplomazia o meglio e fanno i fornitori fornitori di armi fornitori di sostegni non umanitari attenzione purtroppo non fanno sostegni umanitari ma fanno sostegni a livello missilistico sostegni a livello di aerei da guerra a livello di bombe invece che fare un sostegno nei confronti della popolazione lo fanno nei confronti degli eserciti è un sostegno sbagliato assolutamente un sostegno sbagliato e domenico esposito concordo con te mi sono stancato di questa politica questa politica che non è in grado assolutamente di di parlare è una politica che non è in grado di far sedere le persone e ad un tavolo ed è la cosa che che è successa negli ultimi due anni nessuno ha fatto sedere putin e zeleschi gli hanno semplicemente e chi da una parte che dall'altra attenzione non guardiamo il male da una parte il bene dall'altro viceversa e da una parte abbiamo la nato l'europa di conseguenza e gli stati uniti che hanno rimpizzato di armi zeleschi che le sta utilizzando dall'altra parte vorrei ricordarlo iran cina e corea del nord stanno rimpizzando di armi e la russia qualcuno forse pensa che facendo così questa guerra potrebbe finire vorrei che vorrei sentirlo vorrei sentirlo dai nostri politici da quelli che dovrebbero fare e non vanno le notifiche fabrizio bella gamba e lo so le vanno e non vanno ma noi a noi poco interessa noi noi siamo qua tra bene sono veramente stanco amici sono sono contento per quello che sta venendo fuori che verrà fuori uno studio molto funzionale e molto bello ma mi trovo in un balcone gli uccellini morti come ce la come faremo noi anna lopez e si vede che vogliono entrare da te in casa e si strurano contro le finestre non ne so non mi chiedono non parliamo non divaghiamo su argomenti che non c'entrano amici quindi e i nostri politici non sono in grado questa è una dura realtà non sono in grado soprattutto a livello diplomatico una volta avevamo politici che hanno fatto diverse maracchelle essendo educato e carino mi sono ripromesso di essere più educato e più carino usare meno parolacce però una volta avevamo politici che facevano maracchelle perché c'era craxi c'era andreotti c'erano politici sicuramente berlinguer che ne hanno fatte di ogni ma allo stesso tempo erano in grado di farsi rispettare a livello diplomatico erano politici veramente in grado di fare oggi ci troviamo politici che non sono in grado di fare e la situazione qual è che alla fine ci troviamo guerra 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 quali sono le priorità dei nostri politici ripartiranno con con le solite con le solite narrazioni per pandemie e quant'altro ripartiranno con la narrazione che dobbiamo trasformare tutte le nostre case in super green fine che dovremmo comprare solo auto elettriche fine che dovremmo mangiare chissà cosa si inventeranno oltre alla farina dei grilli che hanno già proposto la carne sintetica e il latte fatto con la con la con la mucca e di ferro chissà cosa si inventeranno insomma amici la narrazione parla di tutto tranne che di pace nessuno parla veramente di pace nessuno cerca veramente la pace ecco lo sforzo dovremmo fare noi cittadini magari da settembre finite le ferie mo durante le ferie vi lascio in pace giusto rimanere farci un po di ferie e tutti ma durante le ferie serve però magari il momento di ferie per riflettere e pensare che magari ogni tanto scendere in piazza in milioni di cittadini per manifestare per la pace per dire no all'invio di armi per dire no a tutto quello che ci vogliono fare e ed evitare di farlo magari solo per solo quindi non dico di non manifestare più per le squadre di calcio però per le squadre di calcio per per le narrazioni gender io vorrei ricordarlo amici se qua continua con le guerre non avremo più le partite di calcio non ci sarà più il problema di chi è gente chi è uomo chi è donna chi è intersex chi è transgender perché non ci saremo più questo però alla gente non arriva la gente non lo capisce con la pandemia hanno ricominciato e in verità con la pandemia e avranno ricominciato però mi sono trovato il video di bassetti qualcuno di voi ha visto il video di bassetti dove di fatto mi sembra diventato quasi l'avversario di bassetti cioè bassetti è diventato l'avversario di se stesso adesso narra e narra il contrario di quello che narrava durante il pan della pandemia e quindi dice che il pandemonio generale dice bassetti voi non potete non è pandemia i tamponi cosa serve cioè è diventato il contrario di quello che era quindi quindi io delle domande me ne faccio dico che ogni dubbio è lecito evidentemente c'è qualcosa che non gli è andato bene come pensava poi ditelo voi ma bassetti è completamente completamente cambiato narrazione evidentemente ha litigato con qualcuno del sistema e quindi adesso è un po' arrabbiato quindi non lo so ogni dubbio è lecito però non parliamo di cui lasciamo stare bassetti che anche lui i suoi problemi ne ha e se me anche abbastanza ne ha e perché perché uno che fa fatica a girare per strada perché viene da una parte offeso dall'altra parte minacciato e tutto secondo me i suoi problemi bassetti ce li ha detto questo però chiudendo la diretta vabbè io continuo a lavorare nel mio studio ragazzi guardate la situazione guardate guardate che bordello guardate che bordello non ci saldo più fuori vabbè detto questo amici io spero veramente che che si trovi qualche politico che abbia voglia italiano europeo che abbia voglia di parlare di pace che dica ragazzi qua abbiamo fatto sanzione non finire non sono servita nulla abbiamo inviato armi su armi su armi Zeresky li sta utilizzando per aumentare per ampliare la guerra andando da cani in russia ragazzi io vorrei dire qua scherziamo col fuoco perché Putin tra i mille difetti che ha un pregio fino adesso ce l'ha avuto che non ha usato armi di distruzione di massa però non vorrei che un giorno si alzasse dicendo questo continua a attaccarmi in muovi faccio vedere quello che quello che quello che farò e sarebbe chiaramente un cane che lo dico Putin è un cane che si morde la coda quindi non fare l'errore di usare l'atomico quando quando o armi batteriologiche o cose di distruzione di massa perché la gente non c'entra nulla se siamo governati in tutto il mondo da gente da guerra fondai gente che pensa la guerra e non alla pace però la gente non c'entra nulla Bassetti e Bassetti no Putin pensavo Bassetti ancora perché leggo i vostri commenti dove state dove state parlando di passate parlando di Bassetti e vedo che c'è anche chi parla di Soros e chi parla di pienamente d'accordo ma non scendere in piazza direttamente tutto il popolo italiano e purtroppo amici scendiamo in piazza per altre cose invece veramente e magari per lanciare un messaggio anche Putin cioè di facendo capire che non non vogliamo la guerra e noi assolutamente non vogliamo la guerra però non bisogna scendere in piazza neanche contro il popolo ucraino io lo dico perché ho tanta gente che è dalla parte e tantissima gente che dall'altra e io lo dico ad entrambi gli schieramenti amici i popoli non c'entrano niente la gente non c'entra niente questa è una guerra di poteri forti sia Putin che Zelensky sono gestiti da una parte dall'altra dai loro poteri forti ma i popoli entrambi i popoli non vogliono la guerra salve qualche salve salvo qualche qualche pazzo scatenato che che pensa pensa in cuor suo in test nella sua testa di anzi non un cuor suono nella sua testa è convinto di poter risolvere con le armi un conflitto i conflitti attuali qua amici nessun conflitto attuale nessuno si può risolvere con le armi perché puoi finire magari una battaglia e vincerà ma la guerra non finirà mai perché c'è troppa differenza di mentalità e perché perché nessuno si siede ad un tavolo per ragionare come fare a risolvere i problemi detto questo amici la pizza non serve smettere di pagare Stefano non parliamo di altri argomenti lo faremo lo faremo queste tasse qua amici è impossibile in italia pagare tasse cioè pagare tutte le tasse in italia è impossibile lo sappiamo per un altro argomento ne parleremo a tempo debito io adesso vi saluto torno a fare il mio lavoro sono veramente devastato veramente stanco però felice felice perché sto lavorando per voi per cercare di creare una postazione super operativa con le notizie aggiornatissime le nuove trasmissioni televisive che faremo e ho la maglia del kibo studio perché lavoro ufficialmente con luca del kibo studio che è il nostro team incredibile faremo produzioni importanti e mi invito a seguire la pagina youtube a iscrivervi al canale di youtube e anche alle canali su youtube di open bar che è un format che fa luca l'amico luca di del kibo studio vi voglio bene vi auguro una buona e un buon sabato a tutti e buon san lorenzo e un saluto tutti lorenzo e oggi è fabrizio bellagamba ciao devono fermarsi concordo con te vi auguro un buon salorenzo a tutti mi mancavate scusate per assenza ma ogni tanto anche io devo fare i lavori giustamente perché non ho i soldi per far rifare agli altri perché a differenza dei politici che ande le poltrone dei super stipendi io faccio tutto da me mi faccio il mazzo da solo come tanti di voi e nessuno mi aiuta salvo qualche amico e ringrazio a proposito ringrazio raimondo raimondo ti voglio bene grazie per l'aiuto di questi giorni e ciao a tutti vi voglio bene buon sabato e buon san lorenzo a guardare le stile cadenti esprimete un desiderio magari rivolto alla pace ciao a tutti